Inizia una nuova era, inizia una nuova società e quindi noi opereremo in modo tale che poi questa società possa ricreare un'immagine per il Napoli nel tempo che dia soddisfazione e divertimento. E da lì cominciò la mia avventura strepitosa con il Napoli, che praticamente ha cambiato una parte della mia vita. Il quinto titolo della gestione dell'Aurentis, cominciata nel 2004. E abbiamo vinto tutti insieme! Grazie!